Bari, capitale dello sport universitario, ad impreziosire l'incontro organizzato all'interno del Centro Universitario Sportivo di Bari dell'Università degli Studi Aldo Moro, in collaborazione con il CUS, il neocampione europeo e campione italiano di canottaggio Domenico Montrone delle Fiamme Gialle, nonché medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio, oltre ad Emanuele Fiume, bronzo agli europei e campione italiano di canottaggio, entrambi studenti e atleti baresi. L'Università costruisce il suo futuro incontrando gli studenti e atleti e confrontandosi con loro tra prospettive ed esigenze. Il titolo italiano è uno step per cominciare la stagione, quest'anno li abbiamo affrontati l'anaspicità dell'otto, abbiamo vinto questo titolo con le Fiamme Gialle, quindi siamo molto contenti, fa sempre gruppo, fa sempre squadra, vincere fa bene e aiuta a vincere. Il nostro livello sportivo richiede tantissimo impegno, quindi coniugare sport e studio diventa quasi impossibile, hai bisogno di tempi un po' più lunghi per concentrarti meglio sulla vita scolastica, sulla vita universitaria, quindi diciamo che le energie mentali che si sprecano per concentrarsi sullo studio sono veramente tante. Io sono entrato a far parte di questa grande famiglia delle Fiamme Gialle a novembre, sono uno della new entry delle Fiamme Gialle, quest'anno sono riuscito a vincere il mio primo titolo assoluto nel quattro di coppia e sono molto contento e nel mio futuro prevedo, mi sono messo degli obiettivi diciamo lunghi, quindi cerco di raggiungerli come tutti quelli che ho fatto fino ad ora. Oggi è una giornata importante perché è la prima giornata dello sport universitario, forse anche a livello nazionale. È importante perché finalmente come CUS stiamo riuscendo a portare molti studenti del nostro Ateneo a vincere titoli italiani in varie discipline. La prospettiva che abbiamo è quella di incrementare quanto più possibile queste medaglie e cercare di attrarre gli studenti che vogliono iscriversi all'università a iscriversi presso il nostro Ateneo in modo tale da fare una squadra agonistica di studenti universitari di un livello molto elevato. Grazie.